Buongiorno a tutti da Scanno, qui oggi c'è un sole meraviglioso e vorrei leggervi una brevissima leggenda contenuta in questo piccolo libricino che si chiama Leggende del Lago di Scanno e parla della nostra Madonnina, la Madonnina del Lago e vorrei parlarvene a proposito delle nostre tradizioni religiose perché appunto a maggio si celebra la festa della Madonnina del Lago ci sarebbe stata, purtroppo non si è potuta svolgere, la classica processione che accompagna la Madonnina dal lago dove appunto si trova fino alla nostra parrocchia e quindi mi piacerebbe insomma leggervi questa storia che prova un po' ad interpretare in maniera romanzata la posizione molto particolare che la Madonnina appunto occupa perché esiste una piccola chiesetta che sorge sul nostro meraviglioso lago a forma di cuore e si trova praticamente proprio incastonata tra le rocce che sorgono attorno al lago e la Madonnina è proprio incastrata dentro le rocce e veramente è una posizione suggestiva ed è veramente bellissima quindi se non lo avete fatto vi consiglio, vi invito a venirla a visitare nel frattempo spero con questa brevissima storia di alietarvi e di provare un po' a spiegarvi il perché secondo questa leggenda la nostra Madonnina è situata proprio in quel punto la leggenda che vado a leggervi si chiama il raggio misterioso e comincia così Mentre i buoi pascolavano tra i rovi e i ginepri intorno al lago di Scanno il pastore respirava i profumi della rigogliosa vegetazione le sue mani e il suo volto anneriti dai raggi del sole e dagli anni mostravano il lungo trascorrere del tempo vissuto all'aria aperta in armonia tra natura e lavoro il tepore della giornata che finiva riverberava dalle montagne vicine il tramonto avvolgeva ormai con ombre lunghe la conca e l'aria increspava le acque soffiando aliti di zeffiro la notte stava calando sul lago sovrastato dal brulichio di una moltitudine di piccoli insetti al pensiero di radunare i buoi il pastore ha lo sguardo curiosamente proprio in quell'istante vide un insolito raggio luminoso partire dalla roccia dove era custodita l'immagine della madonna e ricadere in uno splendido bagliore sulle querce d'intorno confuso ma ancora più meravigliato mentre il profilo del lago già si confondeva con l'oscurità dei monti disse tra sé che strano il sole tramontato come mai questa luce l'istinto si portò in mezzo al sentiero sotto le querce per vedere meglio da dove venisse il fulgore ma al suo avvicinarsi la luce abbagliante scomparve il pastore non capì cosa stesse succedendo tornò allora verso i buoi ed ecco che la luce riprese a sfolgorare una seconda volta l'uomo restò sbalordito da quel fenomeno che non sapeva come spiegarsi poi nell'incertezza se ciò che aveva visto fosse realtà oppure immaginazione cominciò ad avere paura tuttavia si lasciò guidare dal buonsenso e animato da santo zelo corse a riferire l'accaduto al parroco il prete non gli sdegnò di ascoltarlo provò curiosità e stupore per l'ingenuo racconto e per la straordinaria manifestazione descritta dal pastore ma rimase perplesso disse di voler vedere quella luce con i suoi stessi occhi e si recò nel punto in cui era posta la sacra icona ma quando di nuovo la strana visione si ripetè ancora più luminosa si rese conto che quella del pastore non era la semplice suggestione di un uomo del volgo la luce era davvero la scintilla meravigliosa dell'annuncio di una presenza celeste fu allora che cominciò a credere tornando con il pensiero anche all'altro prodigio avvenuto pochi anni prima quando un mercante smarrito nella bufera attraversò ignaro il lago ghiacciato e si salvò grazie alla guida di un lumicino che ardeva sotto la stessa roccia quando gli abitanti di Scanno vennero a sapere del raggio misterioso apparso nei pressi del lago vibrarono di commozione e si convinsero che si trattava di un segno dall'alto pieno di viva e santa tenerezza per il paese perciò aprirono i cuori alle grazie divine e proposero un gesto concreto di ringraziamento rispondendo a quel desiderio il parroco testimone garante dell'ardore di una fede sincera presentò una relazione del prodigio al vescovo della diocesi con la supplica di erigere una chiesa alla madre di dio proprio nel luogo dei fatti miracolosi il monsignore consapevole che i dio si serve spesso delle creature più umili per operare grandi cose accettò con cuore generoso la calorosa richiesta ben presto sull'aspra rupe viene costruito un grazioso tempietto che tuttora si innalza e si specchia sulle acque del lago di Scanno e accoglie sotto di sé una via di passaggio gli scannesi dicono che il barco della roccia nella roccia è stato creato dai costruttori in omaggio alla Madonna secondo la tradizione infatti tutti coloro che transitano sotto la simbolica arcata sono sotto il patrocinio della regina dei cieli la quale si prende cura di ognuno facendo svanire ogni pericolo perciò guardando la cappellina è d'uso ancora oggi segnarsi la fronte con il segno della croce togliersi il cappello e recitare un Ave Maria dal giorno in cui fu benedetta la piccola chiesa divenne il luogo sacro del lago aumentò il numero di coloro che vi si recavano a sciogliere voti a innalzare lodi, inni e preghiere e tante furono le grazie ricevute da Dio per intercessione dell'immagine dei prodigi di cui l'usanza degli scannesi di trasportare la Madonnina nel paese ogni qual volta se ne scorga il bisogno le novene speciali e i riti tramandati si celebrano ancora anche intorno al lago con suggestive fiaccolate sapendo che i desideri del popolo in preghiera non restano mai inesauditi questa è una leggenda in cui in qualche modo noi scannesi crediamo tantissimo seppur, come ripeto, questo libricino comunque è una storia un po' romanzata però comunque il fatto del racconto, diciamo, del segno della croce che ogni scannese compie, diciamo, come gesto nel passare sotto il traforetto che è stato costruito in tempi antichi proprio in onore della Madonna, è vero, cioè noi scannesi ancora per tradizione, per devozione religiosa ogni volta che oltrepassiamo l'archetto della Madonna noi ci facciamo appunto il segno della croce invito anche voi, qualora veniste a trovarci, a farlo quindi a visitare la nostra Madonnina ad onorarla con un segno della croce, con una preghiera quindi, insomma, mi auguro di avervi incuriositi e di avervi raccontato qualcosa di interessante e vi auguro una buona giornata ciao a tutti